In occasione della trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, trentesima edizione, trentesima, un numero, già una garanzia. Volevo dirvi una cosa, benvenuti in Toscana. Un abbraccio a tutti i visitatori della trentesima edizione del Salone del Libro di Torino, ed in modo particolare dello stand della Regione Toscana. Sì, perché anche qui, in questo stand della Fiera del Libro è Toscana. Si respira la Toscana attraverso i libri, attraverso le persone che raccontano la nostra terra. La Toscana è la Toscana, dai. Boh. Perché si mangia bene, si sta bene, c'è il mare, c'è la montagna, si parte da Carrara, si scende giù fino a Piombino, a Follonica, montagna, c'è di tutto. Boh. Io, in realtà, sono veramente orgoglioso e fiero di essere un Toscano. Grandissima soddisfazione per la Toscana. Ah, mi dicono che devo rispondere alla seguente domanda. Aspetta. Sì. La Toscana, per te, è stata ed è un confine? La parola confine, ultimamente, è stata davvero oltraggiata, offesa, usata impropriamente. Sponsorizzo, quindi, la parola ponte. Il Salone del Libro ha una voce da ascoltare, sarà un ponte solido, forte. Ho una opportunità? Questa è la domanda. La Toscana, per me, è stato veramente il trampolino di lancio, ma me la sono sempre portata nel cuore, perché mi sento orgogliosamente toscano. Per noi della banda è stata sicuramente una grande opportunità, soprattutto all'inizio della nostra carriera. La Toscana, per me, è stata sicuramente una grande opportunità, molto grande. È stata la mia prima maestra di bellezza, di gusto, dall'arte, l'architettura, la storia. La Toscana è la legione ospite alla trentesima edizione del Salone del Libro Internazionale di Torino. Ma magari lo sapete. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici che stanno passando adesso, in questo momento, dallo stand della Toscana. Un abbraccio e un augurio a tutti e a tutte. Fatti non fosse per vivere come brutti. Vi aspetto, se non ci siete mai stati, veniteci a trovare. Ciao! Un abbraccio da Don Bachi e da tutta la banda Bardot. Quindi viva la Toscana, perché è una regione bellissima. Ciao! Toscana, confine, opportunità. Toscana, rilassa. Toscana, confine. Toscana, confine. Toscana, confine. Toscana, confine.